Buongiorno, buon lunedì. Ogni giorno senza un sorriso è un giorno perso. Charlie Chaplin. Beh, su queste parole iniziamo la nostra settimana con tanti, tanti sorrisi. Come si fa a sorridere? A volte hai tante ansie, magari sei stressato. Il lunedì soprattutto inizia una settimana con tanti pensieri, bollette da pagare, impegni, scadenze. Non ha importanza. Se incominci a concentrarti ed avere quel focus sulle cose belle, incomincia a sorridere, incomincia a far vedere i denti, sorridere e incomincia a pensare ai tuoi organi che sorridono. Immagina il fegato che sorride, immagina il pancreas che sorride, il colon che sorride, immagina tutte le tue cellule che sorride, il tuo cuore che sorride, la tua mente, il tuo cervello. Non ha importanza dove posizioni, dove si trovano questi organi. La cosa fondamentale è che tu immagini che tutto è un sorriso e che tu incominci ad essere un grande attrattore di amore e benessere, abbondanza, di sorrisi, di cose belle della vita. Perché? Perché quando tu ti carichi di questa energia e diventi un sorriso vivente, una energia potente di amore, beh, irradi questa energia e secondo la legge dell'attrazione, del magnetismo umano, attrarrai a te soltanto cose, persone, occasioni belle, giuste nella vita. Ti auguro di iniziare questa settimana alla grande, con tanti sorrisi e con tanti abbracci. Buon lunedì. Ciao.